quindi quindi amici di youtube benvenuti in questo nuovo aggiornamento della collezione nuovo unboxing vedete devo fare sta recita no devo fare sta recita in realtà sto facendo una live in questo momento amici di youtube io sto facendo una live con tanti miei cari amici in chat simpatici ma sono davvero simpatici a parte vabbè casi rarissimi quindi se volete seguitemi sul canale twitch non si può dire che se ne fotte facciamo un aggiornamento della collezione con quello che probabilmente è l'unboxing più bello più importante di tutta la mia carriera di collezionista io non ero un collezionista cioè compravo dei film che amavo da ragazzo poi quando ho iniziato a fare recessioni per colpa di midnight factory e altre realtà insomma ho iniziato a mandarmi film io adesso adoro avere questi film li apprezzo sotto ogni punto di vista mi sono arrivati due pacchi insieme uno è questo dopo ho tolto tutti gli indirizzi così e un altro più pesantiello questo tac non so esattamente cosa c'è dentro perché io faccio delle richieste poi magari non mi arriva tutto non lo so di solito arriva sempre tutto però io non voglio sfidare la fortuna e la prima cosa che andrò aprire quello più leggero che questo qua lo spaccando tutto perché tanto non ce ne frega nulla della cascatola potevo averlo in diverse edizioni questo film ma l'ho avuto nell'edizione più figa possibile c'è un'edizione ancora più figa che quella con la maglietta però però tolto mi 4k still book still book still book mamma mia come sono happy questo ragazzi è un film incredibile che è flexata sì 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 raga uff 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 vediamo se con questa nuova telecamera magari metto un po più di luce ok allora voglio farvi notare che vediamo se riesco è leggermente in rilievo la scritta è in rilievo questa scritta qua è in rilievo fighissima dietro non c'è niente perché è come il film c'è una profonda oscurità in questo film quando si quando si entra dentro quest'incubo quindi è giusto che non ci sia niente e dentro abbiamo come al solito tutto il pacchettino di roba libretto midnight con le spiegazioni hai un po di analisi del film eccetera eccetera poi abbiamo il film in 4k molto bella questa stampa qua la trovo molto più figa dell'altra guarda come mette a fuoco bene oh eccolo qua wow stupendo stupendo e questo è niente e questo è niente e questo già mi fa godere perché questo film diventerà un cult i fratelli philippo diventeranno un punto di riferimento per il cinema horror sempre se appunto rimarranno dentro ma loro sono molto appassionati perché hanno un canale youtube dedicato proprio all'horror lo splatter eccetera questa è la steelbook in metallo io l'ho già riempita di dettate quindi ora smetto di toccarla e niente l'appoggio qua sperando di non farla cadere tanta roba il film è bello trovate la mia recensione su youtube presto uscirà anche una recensione scritta sul sito c'è il commento audio dei registi ma sapete che ho una voglia pazzesca di sentirlo quasi quasi mi faccio mi sparo questo commento audio dei registi interviste making of dietro le quinte scene alternative e trailer mi gusta mucho questo è il cartoncino scrivetemi nei commenti in chat che cosa fate voi io faccio una cosa che magari mi dite che sono un criminale io lo piego in due preciso e lo metto dentro alla steelbook voi cosa fate con questo cartoncino che ha tutte le indicazioni fatemi sapere se un criminale lo sapevo che qualcuno mi scriveva così passiamo al pezzo forte ragazzi questo è il pezzo forte questo è tutto ciò che io ho sempre voluto nella vita pesa una tonnellata ed eccola qua ho realizzato tutti i miei sogni ragazzi la leggendaria saga di George A. Romero Living Dead Film Collection 4K è enorme pesa 20 kg dietro per farci stare cioè dietro è per farci stare tutto quello che c'è dentro non so come hanno fatto andiamo ad aprirla mamma mia ragazzi mamma mia mamma mia mamma mia no scusate questa volta ragazzi sono proprio preso cioè tra il feticismo dell'oggetto ma il mio amore misurato per Romero è qualcosa che mi sta facendo mi sta facendo veramente impazzire in questo momento adoro questo formato qua adoro questo formato a libro con il disco inserito dentro vi faccio vedere ok è simile a quello dell'edizione della Mosca vi sfoglio le pagine opla 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 mamma mia e poi si va verso anche gli ultimi film meno apprezzati dal pubblico o comunque alcuni del pubblico in realtà io li amo tutti questi film perché anche quelli fatti meno bene oh non spaccarti ti prego mi è caduta il poi c'è un pacchettino con le cartoline che penso rappresentino tutti i film questo lo vado a spaccare ragazzi ok le cartoline vi faccio vedere il retro belle grandi survival of the dead poi in fondo c'è un librettino bello corposo un librettino appunto con un bel po' di roba da leggere su ogni film immagino qualche foto sono felicissimo raga sono felicissimo Romero è sempre stato il mio regista horror preferito il film la notte dei morti viventi è sempre stato il mio film horror insomma preferito ho fatto la recensione dell'altra edizione che è uscita quella con solo il primo film in 4k andatela a recuperare su youtube cosa farò con questa edizione qua intanto vi cucate questo bel unboxing io ho il numero 14 mica male insomma il 14 è pure un numero basso che sono sempre più fichi i numeri bassi vi faccio vedere anche il lato e di qua sotto e sopra no vabbè ma è devastante è devastante ci vuole una libreria solo per questo allora due parole su questa collection devastante ho intenzione di vedere questa collection quindi tutti questi film uno dietro l'altro possibilmente con voi nel senso che chi mi vuole far compagnia se le recupera a modo suo o chi ha la collection quindi programmerò magari tra una settimana lo start faremo una full immersion e infine farò una live dedicata questo sarà il mio contributo alla causa la causa di Romero la causa di Midnight la mia causa perché quando vedo queste edizioni qua sento che ognuno nel suo piccolo o nel suo grande fa un lavoro nella stessa direzione cioè quello di rivalutare un certo tipo di cinema ma spiegarlo c'è chi lo porta e c'è chi lo spiega c'è chi lo introduce alle nuove generazioni chi lo fa insomma tornare alla memoria alle vecchie generazioni quindi mi sembra che remiamo tutti dalla stessa parte io mi emoziono proprio tanto cioè questi sono i momenti in cui questa questo mio secondo lavoro di recensore divulgatori di cinema horror mi mi sembra che abbia senso ecco ha senso e mi arricchisce la vita voglio dire una cosa a tutto il team di Midnight Factory complimenti ma non è una leccata di culo perché i film rimandano comunque quindi non è che ho bisogno di dire questo loro sanno che che dico sinceramente perché fare un'edizione del genere non è facile come non è stato facile fare l'Halloween Collection ed è qualcosa di meraviglioso per i fan di Romero quindi boh è una di quelle poche occasioni in cui un prodotto è qualcosa di più di un prodotto perché all'interno di questo prodotto c'è l'arte c'è il cinema c'è la nostra passione la passione di Romero e di tutti quelli che hanno lavorato con lui in questi film quindi veramente complimenti a tutti a tutti a tutti e soprattutto quelli che si occupano nello specifico di far sì che un'edizione così raggiunga gli scaffali e i negozi online insomma meraviglia queste sono le due edizioni vi lascio qui sotto i link ops vi lascio sotto il video i link per comprarli